Grossi, pallone un po' troppo timido verso Panaioli, Maldonado per Coquen che apre, può andare Grandis sulla fascia Porta palla Grandis, servizio per Di Nardo che di prima prova a calciare, la parata in due tempi di Zappalà Filarsi finisce giù tutto regolare, Grossi, la sponda di Maurizzi, arriva Camilli, va via Gonzales, Camilli punta l'area Servizio adesso, Maurizzi in aria, Maurizzi si allunga il pallone con l'ultimo tocco e poi va a franare su Esposito L'arrivo ancora di Parisi a destra, il cambio di gioco dove si fa vedere Lombari, controllo, Lombari che va via Pellegrini Entra in aria, Lombari calcia malissimo, completando male l'opera, palla drittura in rimessa laterale Di Emma con un ottimo tempismo, però sbuca Lombari, passa anche con un po' di fortuna, Lombari al limite Cerca di entrare in aria, poi prova a calciare con il destro strozzato, facile la parata di Zappalà Recupero da parte di Panaioli, Grossi, Maurizzi la controlla, cerca il suggerimento per Pellegrini Che si gira, calcia Pellegrini e ci vuole una grande parata di Esposito per togliere il pallone da sotto la traversa Fischia Galifi, Maldonado la fa girare, è una grandissima punizione quella di Maroccio, Maldonado Quarto gol in campionato, campo basso in vantaggio Parisi Allunga il passo, prova a crossare e riesce a smanacciare in ogni maniera definitiva Zappalà è sul secondo palo, mette in rete Di Nardo in pochi minuti, ne fa due il campo basso, 2-0 Arriva la chiusura Da parte di Grandi, si lancia e rimane in campo, Kochen Può sfidare Ruiz, Kochen entra in aria, calcia poi con il destro, alto Altro pallone verso De Marco, colpo di testa di Bonacchi, può insistere Fatati, Pellegrini Cerca la giocata, cerca il destro, la parata sicura da parte di Esposito Poi ci prova anche Savi, Murato, occhio perché si apre una prateria per il contropiede del campo basso Di Nardo è praticamente solo davanti a Zappalà Di Nardo per chiuderla con il tocco sotto, sbaglia clamorosamente Di Nardo Il colpo del match point A Serra favorendo però di fatto Camilli L'apertura per Pellegrini Può crossare Pellegrini, parla dentro per il colpo di testa Provato in anticipo da Vestenicchi Che impatta il pallone, non trova lo specchio Arriva in questo istante Continua la sua rincorsa verso la promozione Il campo basso di Pergolizzi che vince 2-0 per la prima volta in questo 2024 Cade in casa la Tivoli di Granieri